Non si può confondere la religione, nessuno sta dicendo che è un problema religioso e quindi mettere in mezzo la religione è offensivo nei confronti di tutte le religioni Certo, della religione islamica Però nascondere il fatto che ci sia, come dicevo prima, un problema culturale e poi un problema di sicurezza, perché le nostre periferie di Milano ma anche a Torino, e a Torino è successa la stessa cosa qualche mese fa di violenza, che peraltro non è solo violenza molestia nei confronti delle donne è violenza pura e che queste baby gang siano composte di immigrati di seconda generazione non integrati di un'integrazione non gestita significa non capire che cosa sta accadendo nella nostra società Esattamente come il sindaco Sala E' un fenomeno simile a quelli delle baglie parigine per alcuni versi Quindi Mario fa un distinguo importante, non religioso ma culturale